un saluto agli amici di medico snake allora in questo modo porta a conoscevi napoli però questa volta in formato 4k le riprese sono effettuate direttamente dal mio samsung galaxy note 3 sono delle riprese non proprio stabili quindi non uno stabilizzatore video e mi devo adattare in questo momento mi trovo alla galleria Umberto un saluto ok dopo aver atteso circa 30 minuti che la mia ragazza uscisse dal negozio abbiamo abbandonato la galleria Umberto e siamo su via Toledo un saluto un saluto un saluto un saluto un saluto e dopo via Toledo tocca a piazza del plebiscito Musica Allora amici di Metico Snake, con quest'ultima clip chiudo qua il vlog, vi ho portato un po' in giro per Napoli, video riprese in 4K dal mio Samsung Galaxy Note 3 e intanto voi se vi piacciono questi tipi di video fatemelo sapere con un like, ogni tanto continuate ad iscrivervi, lasciate soprattutto i vostri like, fatemi sapere nei commenti in basso cosa ne pensate, attivate le notifiche e condividete questo video. Nella descrizione trovate anche tutti gli altri link per seguire Metico Snake sui parti social e che dirvi, ci vediamo sempre qui sul mio canale YouTube con un prossimo video. Ciao! Outro